visito accanto in visita allora abbiamo un personaggio di minecraft il minatore giusto mi avete detto che sarei potuto diventare qualsiasi cosa nella vita così sono diventato un personaggio di minecraft non parla più volendo si ma fai polemica con qualcuno in generale per adesso va abbastanza bene tutto finchè giorno minecraft che mi sembra è stato acquisito dalla microsoft a quanto pare si a quanto pare si siete contenti di questa acquisizione? aspettiamo aspettati di vedere quale sarà il corso avvicinati un attimo al tuo collega tu invece che sei sempre di minecraft? no io sono un personaggio del wrestling poco conosciuto però c'è la cerchia di persone che riescono a riconoscere i corsi ho capito lui è il personaggio di minecraft che rimane uno dei giochi ancora più diffusi forse per via del fatto che è gratuito anche giusto? è gratuito se lo scarichi legalmente perché tecnicamente si può pagare 19 dollari forse è gratuito il fatto di poterlo utilizzare per fare video su youtube qualcosa di gratuito c'era perché è stato utilizzato proprio per quello un ingrain a larga scala un ingrain a larga scala